Musica Le attività della Università della Terza Età sono iniziati ufficialmente con l'Open Day che si è tenuto lo scorso 14 di settembre presso gli spazi della Scuola Media Ettore Baldassare di Trani. E' stata un'occasione per presentare l'associazione che si apprestia ad iniziare il suo 26esimo anno di attività ribadirne gli obiettivi e i valori, declinare l'offerta formativa per l'anno accademico 23-24 e presentare i docenti. Come vedete quest'anno il menù è molto voloso, tra un po' vi daremo il modulo e leggeremo il modulo. Come state vedendo qui anche docenti nuovi, per cui noi ci siamo chiaramente affidati per cercare sempre di trovare novità, stimoli nuovi. Musica Ottime le premesse, grande partecipazione, le istituzioni sono aperte presso la segreteria dell'Ud3 Trani una comunità che non intende smettere di imparare, socializzando. Un incontro che qui noi vogliamo creare un clima di fiducia, di serenità, di gioia di essere presenti, di creare un momento in cui abbiamo la possibilità di recuperare delle conoscenze. Musica 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 Musica